Pronto? Pronto, dottore. Buongiorno, buongiorno. No, niente, mi sento male, dottore. C'ho tosse, febbre alta. Che posso fare, dottore? Non si preoccupi, allora si appunti queste cose, le prescrivo 10 sedute di fanghi e 10 sedute di sabbiature. Come passa, dottore? Non lo so, ma almeno si abitua a stare sottoterra.